I musicisti sono la scuola di Caraglio e la scuola di Boves. Amano cantare, amano esprimersi e questo è il loro momento. Quanto ci avete messo a preparare le canzoni che canterete questa sera? Tanto! Mi è sempre piaciuto suonare insieme a gente diversa, non solo a orchestre classiche per esempio. Quello che abbiamo cercato di fare è di farlo nell'assoluta normalità, ci si incontra per suonare, poi c'è Fabrizio che fa la battuta. Come non l'hai mai viste? Salvatore, hai suonato insieme a loro quante volte? Mi ho suonato insieme sei volte, Salvatore. E dici che non l'hai mai viste? Sto scherzo! No, non puoi fare una roba del solito. Non puoi, non puoi. Ah, scherzavi, scherzavi! Scresce molto di più, anche con le intonature e le stonature. Non è facile, però è bello come esperienza. Si impara dagli errori, si continua a suonare comunque, anche se si sbaglia. No, no, meraviglioso, meraviglioso. Cioè, dovete pensare che c'è il maestro qua dietro che è sudato marcio perché cerca di dare il tempo a tutti. Voi state facendo un'esperienza unica perché ricordatevi che suonare in piola è così. No, quindi dovete andare un po' presso a tutti, avere pazienza, non sarà tutto dritto, ma avete suonato benissimo perché avete dato un supporto meraviglioso. Non ci siamo preoccupati tanto di come avveniva l'incontro e di come i ragazzi o alcuni ragazzini, anche molto giovani, si ponessero di fronte alla disabilità. Abbiamo suonato. Mi ha colpito tanto l'umanità di questi ragazzi che ci sono messi in gioco per creare un momento di festa. Il bello di questi ragazzi qua è che non hanno preamboli e non hanno quel genere di, non lo so, di anticamera per cui bisogna o non bisogna. Se li va dice, se non li va non dice. Che cosa ci avete preparato Alberto quest'anno? Un po' sorpresa. L'ho scritta a mia moglie. Bravo, viva! L'amore che va, l'amore che viene, è 26 anni che siamo insieme. La moglie. Sì, mi sono commossa, non me lo aspettavo, è stata una sorpresa. Bella, bella gradita. Ti amo, ti dico, ti amo, ti amo, ti amo, ti dico, ti amo. Monica, questa era per te. Ciao, Monica. Ciao, Monica. E cazziata. Chi è tua moglie? È lei. Chi? Lì. È lì, c'è la moglie. Dove? Lei. Non c'è n'è per nessuno. Non c'è n'è per nessuno. Non c'è n'è per nessuno. Non c'è n'è per nessuna... Non c'è n'è per nessuno. Grazie.